E questa qua l'ho chiamata, mi ha detto, guarda, i pacchi sono qui allo smestamento di Milano, a Cervolano, che non chiede neanche dov'è. Ho detto, dov'è Cervolano? Lo fai a Milano, praticamente. A Troia, Milano Sud. Sì, dall'altra parte del mondo. E mi ha detto, però domani mattina sono a Dio.